E' stato presentato ieri a Capodorlando il libro La Correttrice della scrittrice Emanuela Fontana, un'opera che parla di Emilia Luti, una giovane donna fiorentina che lavorava per Massimo D'Azzeglio come bambinaia e a cui Alessandro Manzoni chiese aiuto per la nota risciacquatura in arno dei Promessi Sposi, di fatto la vera e propria editor del più grande romanzo italiano. Il libro, scritto magistralmente dall'autrice e insieme storico, letterario, femminista e affonda nelle radici stesse della lingua italiana e del bel paese. Sì, La Correttrice è ispirato alla storia vera della bambinaia fiorentina Emilia Luti che aiutò Alessandro Manzoni a correggere i suoi Promessi Sposi, una figura che era rimasta nell'ombra per un secolo e mezzo. L'ho scoperta studiando su un testo universitario perché io ero giornalista, sono diventata insegnante qualche anno fa, ho dovuto studiare da capo e in qualche testo universitario inizia a comparire, in particolare in questo. Però erano poche righe e da lì mi sono buttata a capofitto nella ricerca sulla sua storia, la sua biografia e su questi bigliettini che si scambiava con Manzoni, perché tutto è contenuto in questi piccoli biglietti in cui Manzoni le chiedeva le parole in fiorentino. Allora, gli originali sono la biblioteca Braidense di Milano che ringrazio, dove c'è anche l'edizione dei Promessi Sposi corretta di suo pugno da Manzoni, perché questa storia del mio romanzo tratta della seconda grande edizione dei Promessi Sposi, quella con cui Manzoni voleva dare una lingua nazionale all'Italia prima che ci fosse l'Italia, vent'anni prima. Credibilmente, e devo dire che questa storia dà una luce diversa secondo me anche a Manzoni, perché fu un uomo di grande umiltà perché si affidò a una donna di 24 anni, questa era una ragazza, una bambinaia che non aveva studiato particolarmente e si fidava di lei completamente, cioè le ha assegnato questo compito di stargli accanto. È quello che c'è tra le righe di questo romanzo, la storia di questa ragazza che è vera, che è esistita, che ha aiutato Manzoni a sciacquare i suoi panni in arno, come ci dice lui stesso nel suo libro, però è la storia anche di tutto quello che ha comportato quell'anno lunghissimo di correzione di questo libro nella lingua fiorentina. Consideriamo che è il momento in cui Manzoni comincia a pensare, antesignano per i tempi, però novellodante, comincia a pensare a una lingua nazionale che abbia le caratteristiche del fiorentino perché è la lingua d'arte che nello stesso tempo ha la semplicità per essere compresa da tutti. La ragazza che è l'editing, la ragazza che aiuta Manzoni è una bambinaia che però così in maniera quasi segreta lavora nel gabinetto del Vessier, quindi si occupa di libri, di biblioteca, è una ragazza che ha una cultura pur esercitando come lavoro solo quello della bambinaia. Dobbiamo essere grati ad Emanuela per due motivi, una perché ci presenta una figura di Manzoni totalmente nuova e molto molto gradevole, al contrario di quello che magari abbiamo pensato a scuola e poi perché dà molto risalto a questa figura femminile che è Emilia Luti che praticamente da bambinaia di Massimo D'Azeglio diventa poi editor e aiuta Manzoni a risciacquare i panni in arno, come diceva lui, proprio perché lei viene da Firenze e quindi nella edizione quarantana, cioè quella che esce nel 1940, finalmente Manzoni può usare la lingua che tanto lui amava, che era il fiorentino e che purtroppo non conosceva.